Uno degli obiettivi del Governo condiviso da tutti e quindi assolutamente da me auspicato è quello di intervenire sul taglio del cosiddetto cuneo fiscale. Abbiamo già anticipato che siccome le risorse purtroppo non saranno così cospicue opereremo un taglio del cuneo fiscale esclusivamente a favore dei lavoratori. Quindi è stato preannunciato anche alle controparti ai datori di lavoro e alle associazioni di confindustria e di categoria e loro mi sembra abbiano compreso che in questo momento è il momento per dare un segnale ai lavoratori. Buonasera, buonasera da Bruxelles, buonasera dalla Bussola. Dunque queste parole che riguardano la struttura della manovra, una manovra complessa per stessa ammissione del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte le ha pronunciate a Tirana dove è in visita di Stato ufficiale bilaterale. Avrete notato le parole sul cuneo fiscale e la devoluzione di mezzi, di risorse che sono comunque limitate a favore dei lavoratori. Questa è la scelta simbolica, programmatica di Conte alla vigilia di un Consiglio dei Ministri che si aprirà intorno alle 21 di questa sera che sarà decisivo appunto per l'approvazione della manovra. Cosa aggiunge prima di dare la linea al segno Bonini? Soltanto una cosa che poi la manovra comincerà a fare il suo iter di check, di controlli successivi da parte dell'Unione Europea in un clima che apparirebbe molto migliorato. A te il segno da Tirana. Buonasera. Buonasera Donato. Proprio così è dunque ancora un'ora qui a Tirana per il Presidente del Consiglio che sta incontrando il Presidente della Repubblica Meta e poi si tratterrà in ambasciata e poi rientro a Roma perché al 21 ci sarà questo Consiglio dei Ministri fondamentale che dovrà dare il via libera alla manovra e poi essere trasmessa all'Unione Europea. Potremmo riassumerli come i paletti di Giuseppe Conte, quello che abbiamo ascoltato sulla questione del taglio del cuneo ai lavoratori, tutto vantaggio dei lavoratori come scandisce il Presidente del Consiglio che in mattinata aveva confidato come su quota 100 che ci sarà e che resterà, si era però ragionato attorno a delle possibili finestre per una modifica. Questo è quanto aveva detto. E poi c'è l'altra questione importante che aveva rimarcato il Presidente del Consiglio proprio da Tirana, vale a dire la lotta all'evasione fiscale che resta centrale per il Governo. Ascoltate. Allora, segno evidentemente, non abbiamo questo sonoro. Continua pure. E dunque sì, allora lo rassumiamo brevemente. In pratica il Presidente del Consiglio aveva detto che per noi resta fondamentale anche perché è inaccettabile che gli italiani onesti paghino più tasse rispetto a tutti coloro che non le paghino. E dunque il refrain è sempre il solito, pagare meno per pagare tutti. Non una lotta all'evasione che è solo declamata il riferimento, forse polemiche, quanto fatto in passato e che non ha portato risultati, ma per il Presidente del Consiglio dovrà essere una lotta all'evasione che dovrà portare risultati. Perché annuncia non mi fermerò affinché non arriveranno su questo fronte dei risultati apprezzabili. Donato, per ora è tutto, andiamo a voi. Ancora lavorando sugli ultimi dettagli, ma ormai il quadro di fondo è definito, era difficile ma ci siamo riusciti, l'IVA non aumenterà, avremo meno tasse sul lavoro e quindi più soldi in busta paga, più soldi per gli investimenti a partire di quelli green e un robusto pacchetto per la famiglia. Quindi è una manovra importante per il futuro del Paese. Allora, onorevole Pinedoli, ci sono altri due elementi. Uno che è stato un po' da subito il marchio di fabbrica della politica economica del governo Conte II, cioè la virata forte verso l'economia verde. Il secondo elemento che aggiunge Gualtieri è quello di un sostegno alle famiglie. Sì, certamente. Devo dire che prima si parlava di aumentare le tasse, in realtà le tasse non aumenteranno perché da quello che emerge già non ci sarà l'aumento dell'IVA, non ci sarà l'aumento anche delle imposizioni fiscali sulle partite IVA, rimarrà al 15% fino a 65 mila euro. E per gli altri che aumentano? Non ci sarà la tassa sulle SIM e sarà mantenuta quota 100, che per noi è molto importante. Di Maio l'aveva già promesso nella nostra festa Italia 5 Stelle che abbiamo ottenuto a Napoli e quindi questa manovra comunque è una manovra espansiva, è una manovra che è avvolta la crescita che punta al taglio del cuneo fiscale e ai finanziamenti per le famiglie, ma con un occhio anche di riguardo alle imprese comunque. È ovvio che i fondi sono pochi, i soldi sono pochi, però si cerca di fare il più possibile. Avete visto lo speciale di Antonio Di Bella, del direttore di Renzo 24, dedicato ancora alla vicenda turca e allo sconfinamento nel nordeste della Siria, dunque all'attacco al popolo kurdo. Gli aggiornamenti in diretta da Istanbul, da nostra corrispondente Carmela Giglio. A te Carmela. Sì, oggi i piani di Erdogan si sono scontrati con quelli del presidente russo Putin. Erdogan ha perso mentre il capo del Cremlino si conferma come il vero arbitro dei destini siriani, almeno in questa fase. È successo a Manbij, una città strategica sulla sponda occidentale delle Eufrate che era occupata dai kurdi. Erdogan puntava a conquistarla, ha mandato lì le sue truppe che la stringevano d'assedio. Ma a Manbij sono entrate le forze siriane, dopo che i kurdi, proprio per non soccombere all'offensiva turca, si sono affidati al regime di Damasco. C'era il rischio di uno scontro aperto tra le forze di Ankara e quelle di Damasco che è stato sventato proprio dai russi. Sono stati loro a comunicare che la città è nelle mani dell'esercito siriano e pattugliata dalla polizia militare russa. Erdogan in questo caso è stato costretto ad arretrare, ma il suo prossimo obiettivo è Kobane, la città simbolo della resistenza kurda contro l'Isis. Intanto sulla regione orientale dell'Eufrate continua l'offensiva e i kurdi stanno recuperando terreno. In queste ore stanno contendendo palmo a palmo ai ribelli filo turchi il controllo della città di frontiera di Ras Alain. Intanto Trump prova a fermare Erdogan minacciando sanzioni e sta per mandare qui in Turchia il suo vice Pence. Ma il presidente turco ribadisce non mi fermerò finché non avrò centrato tutti gli obiettivi che mi sono prefisso. Ed è tutto. Linea a voi. Onorevole Pinedori, considerando anche che la Turchia è un partner estremamente importante della Nato e considerando anche il fatto che la Turchia ha ricevuto molto danaro per la gestione dei flussi migratori, ritiene che lo spazio tecnico di intervento politico dell'Unione Europea sia molto stretto? Però ci deve essere in questo caso. È necessario perché quello che sta succedendo in Siria è inqualificabile. Considerando che la popolazione turca ha combattuto in maniera molto importante per l'Occidente contro la minaccia terroristica. Quindi è importante che l'Europa sia compatta in questo. Bisogna fare fronte comune perché, come si diceva prima, se solo l'Italia o solo pochi paesi dell'Unione Europea, sebbene i principali, hanno sostanzialmente messo in embargo alla vendita delle armi, è importante che tutti i paesi dell'Unione Europea non vendano armi alla Turchia. Parliamo di Brexit perché potrebbe essere, ovviamente usiamo tutti i condizionali, le virgolette del caso, l'esperienza ci ha insegnato questo, però oggi c'è stato il Consiglio degli Affari Generali, cosiddetto ancora Lussemburgo, per noi c'era il Ministro Amendola. Il tentativo è quello di chiudere al Consiglio Europeo di giovedì e venerdì che si terrà qui a Bruxelles. Sentiamo che cosa ha detto il capo negoziatore che da tre anni si occupa molto strettamente di questa materia, Michel Barnier entrando appunto al Consiglio. Anche se un accordo sarà difficile, sarà sempre più difficile, per essere sinceri, è ancora possibile raggiungerlo questa settimana. Si può raggiungere un accordo? Perché è ancora possibile. Ovviamente qualsiasi accordo deve funzionare per tutti. per tutto il Regno Unito e per tutta l'Unione Europea. Ed è arrivato il momento di trasformare le buone intenzioni in un testo legale. Ecco qui, diciamo, l'ottimismo estremamente cauto con qualche ragione di Bernier. Il nostro inviato a Lussemburgo è Gavino Moretti. A te Gavino. Buonasera donato a te e ai tuoi ospiti. Diciamo subito che il vertice in Lussemburgo si è concluso con il pieno sostegno dei 27 ministri per gli affari europei al capo negoziatore dell'Unione per la Brexit, il francese Michel Barnier. Al vertice rappresenta anche Stephen Berkley, il ministro britannico per la Brexit, che ha detto un'intesa questa volta è davvero possibile, perché il confronto sta avvenendo sui particolari di un possibile accordo. L'ostacolo da superare resta comunque quello dei controlli doganali tra l'Irlanda, che fa parte dell'Unione Europea, e la Gran Bretagna, che invece resterà fuori dal mercato unico. Qualsiasi accordo dovrà comunque poi essere messo nero su bianco entro domani, in modo da essere discusso al Consiglio Europeo di giovedì e venerdì. Corsa contro il tempo, quindi intanto sulla possibilità di arrivare a un'intesa che eviti un'uscita disordinata della Gran Bretagna dall'Unione Europea, è intervenuto anche il ministro per gli affari europei italiano, Enzo Amendola. Sentiamo le sue parole e poi di nuovo linea a te. L'Unione Europea sta facendo di tutto, grazie al suo team, al suo caponegoziatore, grazie all'unità di tutti i paesi nel raggiungere un risultato. Siamo realisti, sappiamo quali sono i principi non derogabili per l'Unione Europea, sappiamo che dall'altra parte c'è la volontà di lavorare per una risoluzione, ci auguriamo che si risolva, ma dal punto di vista dei 27 paesi qui convocati c'è largo consenso a trovare una Brexit ordinata. Allora, ricomincio a lei, onorevole Pinedori che non ha mai parlato per prima e poi vengo a lei, non è mai parlato per secondo. Allora, intanto mi tornano in mente le immagini della regina che riproducendo un'antichissima traduzione della democrazia inglese ha letto quello che di Boris Johnson ed è una cosa che mi ha fatto impressione. In quel discorso però veniva citata come questione di necessità e urgenza la chiusura della vicenda Brexit. Lei ci crede davvero? Difficile esprimersi senza rischiare di essere smentiti anche tra pochi minuti perché ogni ora cambia lo scenario. Sicuramente ci sono solo due settimane di tempo nel caso, quindi trovare un accordo in così poco tempo risulta abbastanza difficile. Dall'altra parte il pensiero di prorogare ancora i termini rinvierebbe semplicemente la decisione secondo me e quindi di fatto poi aprendo anche degli scenari particolari perché per esempio all'interno della commissione non ci sono rappresentanti inglesi adesso e quindi il commissario inglese bisogna nominarlo se si porta avanti i termini oppure non bisogna nominarlo diventa un bel problema. Quindi speriamo di trovare un accordo e forse si riuscirà. Oggi Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese, ha detto che indicherà il nuovo nome per uno dei portafogli più complessi ed anche importanti dopo la bocciatura di Sylvie Goulart soltanto dopo lo svolgimento del Consiglio Europeo. Ha dato a questa sua indicazione una scelta di una ragione di proiezione, come ci racconta il nostro corrispondente Alberto Romagnoli, che ovviamente ci dice anche che oggi Paolo Gentiloni, commissario all'economia di questa commissione von der Leyen, ha incontrato il presidente tuttora in carica, vedremo per quanto, Jean-Claude Juncker. A te, buonasera Alberto. Buonasera Donato ai tuoi ospiti, dunque tantissima carne al fuoco nel Consiglio Europeo, previsto giovedì e venerdì e si pensava anche che si sbloccasse la questione dei commissari mancanti, soprattutto il commissario della Francia. Ma Macron ha detto che darà il nuovo nome solo dopo questo Consiglio Europeo, perché prima ha detto che bisogna risolvere l'instabilità politica dell'Europarlamento. E per fare questo, per la prima volta, il presidente francese parteciperà a una riunione di famiglie. Ricordiamo, prima del vertice europeo, ci sono sempre l'unione dei capi di Stato, di governo, conservatori o socialisti. Finora Macron non era mai andato alla riunione dei liberali, invece questa volta la farà. Perché? Perché ha detto che bisogna mettere in chiaro le cose e dare vita a una maggioranza coesa, quella è un'attività, appunto, fra i liberali di Renew Europe, i socialisti e il PP che dà l'impressione viceversa di ospitare una nutrita pattuglia di franchi tiratori. Se si blocca la commissione resta in carica quella attuale. Il presidente Juncker ha incontrato questa mattina il commissario dell'economia Gentiloni. Sappiamo che entro stasera Bruxelles attende il testo della manovra, però è una manovra che, a quanto pare, l'ha detto anche appunto l'ex Premier, continuerà a essere esaminata per diverse settimane ancora da Pier Moscovici e magari con un occhio anche di Valdis Dombrovskis che, peraltro, come sappiamo, continuerà a restare anche nella commissione di Ursula von der Leyen. Per il momento è tutto da Bruxelles Donato. Restituisco la linea a te e ai tuoi ospiti. Grazie Alberto. Allora, cominciando da te, Michele. Abbiamo un minuto per ciascuno, un minuto e dieci. La questione posta come la pone Macron è piuttosto netta. Evitare altri incidenti, ammesso che qualcuno in qualche modo voglia procurarli, ma sembra complicato, perché Macron pare intenzionato a blindare quel portafoglio da una parte e dall'altra parte dare una prospettiva di maggiore compattezza ad una commissione che al primo voto del Parlamento europeo è passata per nove voti. È questa un po' la razza del presidente francese? Sì, ma prima dobbiamo avere una spiegazione di cosa è successo, perché Macron ha detto che aveva l'accordo da parte dei presidenti di tre grandi gruppi, secondo quello che aveva detto a von der Leyen. E qui c'è un misterio, perché il PPE dice che non siamo noi, non l'abbiamo detto, anche i socialisti, non so cosa dicono i liberali. C'è un misterio e questo ci aiuterebbe prima di sapere cosa è successo. E poi, naturalmente, abbiamo visto che mancavano soltanto nove voti a luglio per firmare la von der Leyen e vedremo con il voto che succederà, penso a novembre, per tutta la commissione, se ci sarà anche un rischio e su questo Macron deve lavorare molto. Opiniendoli? Io ho visto tutti i commissari nella commissione giustizia, perché sono passati tutti quanti, e effettivamente forse la Goulart qualche problemina ce l'aveva, forse ha sbagliato anche la candidata. Questa è la mia opinione. Ha sbagliato Macron a candidarla? Sì, secondo me sì. Non era il personaggio migliore da poter candidare, tanto più che aveva questa questione di stipendi rilevanti che aveva percepito da uno studio americano a cui non ha fornito spiegazioni adeguate. Adesso vedremo se, come succede spesso nella cosiddetta realpolitik, l'obiettivo vero di Macron, cioè salvare quel portafoglio che voi stesse avete definito estremamente ponderoso, sarà raggiunto oppure no. e per questo sarà decisivo, anche per questo, perché ovviamente poi ci sarà Brexit, sarà decisivo il Consiglio Europeo dei prossimi due giorni. Molte grazie Massiliano Salini di Forza Italia, Sabrina Pignedo del Movimento 5 Stelle, Michele Stabbeno, Franco Urteaga e Zaitun. Ci vediamo domani, stessa ora, non perdete il busso. Buona serata. Grazie a tutti.